Ragazzi prima di tutto iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e vi chiedo 150 mi piace per 4 episodi di questo video epico e buona visione pazzoiti Ciao Ciao Bentornati nella ghiaccio delle mutate challenge Oh si che bello che bello si Ogni matto un cubetto di ghiaccio nelle mutande Madonna madonna ragazzi Non facciamo farci sti cosi Già sto bagnando tutto eh Quindi ragazzi prima mattina di oggi non so come cazzo gioco che non gioco a questo gioco da 6 mesi dall'ultimo video da 4 mesi che non gioco a questo gioco Penso che faccio scrivere cazzo e Non devo farci la più astremia che me Penso solo che stiamo solo a 0 gradi No vabbè qua dentro stiamo a di più Cazzo inverno non è che posso fare queste cose mica l'estate Alla morte c'è i compagni handicappati Mannaggia ma Allora come si sparava come si sparava non mi ricordo niente Succhia amico che cazzo di forti le kill Allora ragazzi c'ho paura tanta paura C'ho tanta paura mi sto creando in mano Mi sto fermo e non vale quindi Ecco l'ho visto l'ho visto Ma dove sta vio? Eh ragazzino Ragazzino Dove sta vio? Madonna mia Tandanna Tandanna la p***a Eccolo ehm Eccolo l'endemico Ma mamma mia l'ho fatto Oh ma che partita sto a farci Ma che partita sto a farci Primo! Primo ghiaccio raga Perché lì che dicono Iiii ma sono tutti li vietano al ghiaccio Raga Allora raga me lo metto Oh Box dendo e box dendo Ah ah eh Eh vedete che non faccio finta Come siete youtube del cazzo Che porcanna Ah 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 Raga so bene giuro So bene Raga Ok l'ho fatto ok Non capisco cazzo Non capisco niente Non sto capendo niente Iiii So mi voglio bene Non mi uccidete Non mi uccidete Oh Dio parlo Manca la coglia a 6 minuti Ah Iiii Dai Questo è il più grosso Raga Secondo cubetto Dio c***o Ah 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 Vabbè, vabbè, ci stiamo a fare, ci stiamo a fare 100 punti, non è anche 75, ma che merda, oh No! Sì! Ok, stiamo... Facciamo la roba che noi, ma è mo' No, addio! Ma no! C'è adesso! Dai, però non ci faccio più, mio Dio! Sì, quando siamo a tezzo, ok, siamo a tezzo Oh, 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 oh Poi con due, mo' mi ricordo perché non ho fatti più, ho sei mesi, otto mesi, sta challenge di merda Mo' me lo ricordo perché Dio! Mi oddio, mi prendo e mi tolgo Dai, no! Che lo faccite? Ok, ok No! Da dietro, è fio di put***a Cosa fa? Sette quarti, vabbio Questa ha coperto, non ci vedo, madonna È stavolta la mattina, vabbè, con due Altro cubetto, ecco due Mi sto malà, mi sto malà, mi sto malà Aiuto, aiuto Se mi sto guardando la ragazza mia Non posso far più niente Mi sto, sono di meno stabile, ma proprio A cento per cento Dio, Dio, Dio mio Al c***o Al c***o Calma, calma Quando manca, quando manca Mi dà partita Mi dà partita E siamo a sei cubetti Ma con la cavatta sei cubetti Ma con la cavatta sei cubetti Ma con Ma con Ma con No, mi era tanto, sono tipo a 10 Ma alla fine della partita Non me dà Non me dà E scusate se sei cilio, ma Mi stambami Poi, mi sfido a voi Mi sfido Ah, ah Chia, chissà Nozi, nozi, nozi Scappo, scappo No, no, no ciao ciao ma vedetelo voi vedetelo voi io scappo sto vedete perchè sto vedessi da dire raga mi sto malà raga mi sto... ma che ho qualcosa ma che ho qualcosa dio 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 ah ma quanto cazzo fa male ma quanto cazzo fa male ma ecco 2 PARCO DUE no io ne lo so come vedete la febbra ecco 2 tutta acqua c'ho non mi do no neanche poi al fondo me lo v... eh no 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 me lo do me lo do me lo ho fatto vedere ma raga ci stavo ecco tu mi chavo poi alla fine mi non ci vedevi stare i gubetti alla fine mi riloggo tutti quanti perchè se vuoi non ci credete dire eeeh no me ne sto a mettere poi ecco 2 raga mi sto malà mi sto malà non stava vedendo sto raga ma da già matò nage 7 e cubetti che è la data è oh oh mio dio se l'ha messo dio si era sapete su scivato peggio di prima raga si muove vado al t con due non ascono a fare chi è chi è chi è che è ok ok non lo chiamano tutti come tutto che lo Non vedo 15 fattuti punti No di più 25 buona Quando siamo No, 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 attavo, attavo Poi tutto vero. La potete capire ci sta qua sotto non volete. I mari se femmina Ti sfiga a ficcarti venti cubetti e maneggia due Vabbè io indirizzato due cubetti Il mio milpire Vabbè, scritta, un boss No, zio Parcuta di me, caldo, sotto a cuore Adesso, un po' io, un po' Ok, raga, raga Un attimo, un attimo Raga, raga, aiuto, aiuto Aiuto, ok Quando siamo Uno cubetto Ecco due Ecco il nono Ecco il nono Madre di Dio Ma, ma Guarda, comincia qua No, questo no Ecco due, raga Che cazzo Aiuto Dio 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 Màt'E Ragazzi siamo Decimo cubetto Decimo cubetto e 10 punti vado di odio di stendendo dio dio quando finisce stendendo stavo partitiando bene vai a roba vai vai rega come capo la casa mamma da un altro salato salato il salato ecco volevi che faccio tutto chi ha fatto perchè non sei morto un dicesimo cubetto un dicesimo cubetto madre dio un dicesimo è finita dai che è finita dai che è finita 11 cubetti dai che è finita è finito questo rincubo finalmente finalmente è finito il rincubo e poi me ne devo togliere un momento come cazzo me li faccio togliere io andate un momento devo togliere tutto quanto la conta ok uno si vede uno ma che cazzo ce l'ho qua sotto due andiamo più dietro perchè sennò non mi vedo niente due te si sono sciogliottissimo io anzi vedo un po di più la gamma perchè sennò non mi vedo bene quattro la venta vedi ci sta stavano mangiare di ghiacci per tutto 5 per me almeno si mantiene bene penso 5 6 a dire no cazzo ma come ci sta 6 6 7 7 7 7 7 8 mannaggia il 2 la luce di merda 8 vabbè comunque 8 perché tutti insieme 9 10 11 tieni sono qua 9 10 11 ok penso che non ci sape nessuno vediamo quando la lina tattica allora le palle non me le sento più è un modo per diventare stabili quindi se voi volete diventare stabili anche voi usate questa challenge che è molto efficace 10 minuti 10 cubetti non mi sentite più niente quindi ve la consiglio se volete essere stabili la vita è una essendo stabili si vive meglio penso poi vi dico io come stare la mia vita così dico solo che sono di nodo femmina da adesso vabbè almeno 150 mi piace ci passano ghiacci ai mutanti 4 bella adesso mi chiamo pazza ris adesso mi chiamo pazza ris